Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti, attivare la campanella e lasciare un mi piace, grazie. Ho visto tutto bianco, mi sentivo svenire e ho perso il controllo del mezzo. A parlare è l'autista dell'autobus elettrico che ieri 14 ottobre si è schiantato contro un portico in via Carducci a Mestre, a pochi passi dal centro della città del comune di Venezia. Il sessantenne, stando a quanto si apprende, aveva già riferito da qualche giorno che non si sentiva bene. Il veicolo coinvolto appartiene alla società La Linea, la stessa di quello che lo scorso 3 ottobre è precipitato dal cavalcavia Vempa, provocando una vera e propria tragedia con un bilancio di 21 persone morte e 15 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Due episodi di entità diversa, considerato che lo schianto di ieri non ha provocato vittime. Il bilancio è di 13 persone ferite, di cui nessuna in gravi condizioni. Sono state tutte dimesse, con prognosi varie, la più seria di 30 giorni. Si tratta di uomini e donne di età dai 19 ai 42 anni, a cui si aggiunge una dodicenne. L'ULS, 3 serenissima, conferma che l'unico ancora sotto osservazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre è l'autista. I testimoni dell'incidente, 3A, cui qualche venditore dei negozi di via Carducci e un paio di condomini, confermano che il conducente, subito dopo lo scontro, aveva detto di aver avuto un malore. Pertanto, stando agli elementi disponibili finora, la ricostruzione della dinamica dei fatti più avvalorata è la seguente. Attorno alle 21, mentre l'autobus stava uscendo da via Olivi voltando a destra, l'autista ha avuto un malore e ha perso il controllo facendo andare prima contro mano il mezzo e poi schiantarsi sul pilastro di un sottoportico di un condominio di via Carducci. L'azienda della Linea, il cui amministratore delegato Massimo Fiorese è uno dei tre indagati per la tragedia del 3 ottobre, ha annunciato che tutti gli autobus della società sono stati sospesi. Uno stop che è stato deciso dal Comune di Venezia. La Linea copriva alcune tratte per conto del Comune e con essa, a flotta ferma, subentreranno mezzi tradizionali, affidati in comodato d'uso.